ZTL variabile per via Bergamo e via De Gradi in centro a Monza. Dopo la delibera della giunta, ora la richiesta delle zone a traffico limitato è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La decisione è stata presa in accordo con residenti o commercianti per limitare l'afflusso di veicoli nei momenti in cui le strade sono più affollate e occupate da tavolini e deor. Quindi le fasce orarie pensate per adesso sono giovedì dalle 19.30 a mezzanotte. Venerdì e sabato si prosegue fino a luna di notte e domenica stesse orare di venerdì. I varchi di accesso saranno collocati tra via Bergamo e via Pesa dell'Ino e all'angolo tra via Enrico da Monza e via De Leiva e l'area traffico limitato comprenderà, oltre a via Bergamo, tra via Pesa dell'Ino e via Canova, parte di via Enrico da Monza, via Durini e via Canova. Gli altri varchi saranno posizionati all'incrocio tra via Santa Margherita e via Carlo Porta, tra via De Gradi e via Vittorio Emanuele e un terzo tra vicolo De Gradi e via Liprandi. L'area ZTL dunque comprenderà via Santa Margherita, la piazzetta, via Talamoni, via De Gradi e il vicolo omonimo. Il provvedimento riporta la disciplina viabilistica alle necessarie conformità normative e spiega l'assessore alla mobilità di Monza già daturato. Nella selezione dell'area da delimitare abbiamo verificato che la viabilità esterna garantisca una regolare circolazione. I flussi di traffico verranno infatti deviati sugli assi principali della rete viaria. Una ZTL variabile nelle vie della Movida, aggiunge l'assessore al commercio Carlo Abba, è anche un modo per valorizzare il lavoro dei commercianti e garantire la tranquillità dei cittadini, con cui ci siamo confrontati a lungo prima di prendere la decisione alla ricerca del miglior punto di equilibrio possibile. Il rilascio dei permessi d'ingresso sarà gestito da Monza Mobilità SRL.